Cioè a me. Mi consegna la sciabola e si arrenda. Ma chi io? A voi? Voi che avete aggredito il regno di Napoli senza neanche dichiarare la guerra. Ma chi io a voi? Che per pacificare le campagne del sud avete fucilato i contadini. Mi dispiace, signore, ma... Ma proprio non è cosa.